Il Barone Rampante è un romanzo di Italo Calvino scritto nel 1957, secondo capitolo della trilogia araldica ai nostri antenati, insieme a Il Visconte di Mezzato, 1952, e Il Cavaliere Inesistente, 1959. L'ispirazione per il protagonista del romanzo proviene dal giardiniere e botanico Libereso Guglielmi, grande amico di Calvino. Mentre la trama deriva dal racconto che l'autore ascoltò da Salvatore Scarpitta una sera del 1950 all'Osteria Fratelli Menghi in Via Flaminia 57 a Roma. Trama. La storia è ambientata nel Settecento ed è narrata da Biagio. Fratello minore del protagonista. Cosimo Piovasco di Rondò. Il giovane, rampollo di una famiglia nobile ligure di Ombrusa. All'età di dodici anni. In seguito a un litigio con i genitori per un piatto di lumache. Si arrampica su un albero del giardino di casa dichiarando di non voler scendere da esso per il resto della vita. Cosimo dimostra ben presto che il suo non è solo un capriccio. Spostandosi solo attraverso boschi e foreste e costruendosi a poco a poco una dimensione quotidiana anche sugli alberi. Il protagonista conosce Viola, una ragazzina di cui si innamora. Figlia di nobili anche lei, trova un fedele amico nel cane Ottimo Massimo. E diventa figura popolare per gli abitanti delle terre dei Rondò. Lo stile di vita alternativo di Cosimo si traduce col tempo in un percorso di formazione e maturazione. E li conosce i ragazzini popolani. Stringe amicizia col bandito Jean de Brugge, morto impiccato. Si dedica allo studio della filosofia, arrivando addirittura a conoscere Voltaire per lettera. Guida un attacco contro i pirati turchi. Aiuta dei nobili spagnoli esuli, i quali vivono anch'essi sugli alberi. E organizza gli abitanti in gruppi contro gli incendi boschivi. Il ritorno di Viola dal collegio corrisponde con una felice parentesi sentimentale. Presto interrotta però dai fraintendimenti e le gelosie tra il protagonista e l'amata. Che alla fine sposerà un nobile inglese e abbandonerà Cosimo. Nel frattempo soffiano anche su Ombrosa i venti della rivoluzione francese e dell'esperienza travolgente di Napoleone Bonaparte. Cosimo Dopo aver provato a sollevare la popolazione locale. Incontra il famoso generale rimanendone tuttavia assai deluso. Il romanzo si chiude allora con l'ultimo colpo di scena. Anziano è provato dagli anni sugli alberi. Cosimo non si arrende e non scende a terra. Rispettando fino all'ultimo la propria promessa. Al passaggio di una mongolfiera. Si aggrappa alla cima penzolante dell'ancora e scompare all'orizzonte gettandosi in mare. Fine del riassunto. Grazie